Questo dal salto, che noi stiamo dentro proprio... E quella catena lì che... I musi. Ah, i musi. E mi guarda, io ti spiego, guarda, eh. Guarda, eh. Perché basta cambiare. Inizia la catena, eh. Allora, vedi che inizia... C'è una prima... Sì, quella dietro. Allora, c'è una prima cosa molto alta, eh. Allora, quella dovrebbe essere una mano... Tu considera una donna di stessa, quella è in mani giù. Poi prosegui il petto, poi... Ah, è vero! E vedi tutto... Ecco i che si chiamano i musi. Vedi? I mur... La bella addormentata. La bella addormentata. Eh, il murro è quello, sì. Sì, infatti si chiama la bella addormentata. Fai il coro lì, la pancia, poi il coro... Sì, vedi. E poi la faccia. E poi la faccia con un lancio, vedi. E quella è una donna o un uomo? Una donna, la bella addormentata. Una donna con il petto. Il petto, vedi, c'è il petto, capito? I mani giunti e il petto. Eh, forte, forte. E poi il petto. Il petto è il petto.